video che stiamo girando con la fotocamera postura dell'honor 6 plus il dispositivo non è in grado di mettere in maniera automatica a fuoco l'immagine durante la ripresa bisogna toccare lo schermo per effettuare la messa a fuoco si può effettuare lo zoom avanti e lo zoom indietro tramite pinch in e pinch out sullo schermo quindi oppure si possono utilizzare i tasti per la regolazione del volume è un'impostazione che si trova tra i settaggi si può regolare il dispositivo gira filmato in istruzione full hd è possibile anche attivare la stabilizzazione digitale dell'immagine ripetiamo video girato in istruzione full hd con l'honor 6 plus